E' la prima volta dopo cinque anni che parlo da solo a BTO, quindi sono visibilmente emozionato, scusate per qualche papera, e proviamo a divertirci oggi. Non sarà un panel serio, io fra un po' magari sarò un po' più sciolto. Allora, io mi chiamo Rocco Rossitto, sono un freelance, mi occupo di strategie digitali, lavoro nel settore del turismo, ma non solo. Questo è poco importante, probabilmente un po' noioso. La cosa importante da dire è che normalmente ci si impegna su Instagram o su Snapchat a cercare di avere più follower. Io da 6-7 mesi a questa parte per 250 follower al giorno su Instagram sto bene, anzi ho anche preso due chili per la tranquillità. Chi se ne frega, eh? Un'altra cosa che voglio dirvi è che, e questo è il momento pentola delle vendite, a BTO tre anni fa nasceva un progetto di formazione che si chiama 10 cose il web in pratica, e a Milano festeggeremo i tre anni, www.10cose.it ci stava. Iniziamo. Allora, questo è il momento delle mani in alto, è fondamentale. Intanto volevo sfatare un mito, non è vero che ai concerti stiamo tutti con i telefonini in mano, sì ce n'è uno, però dipende chiaramente che tipo di concerto è. Allora, le domande che devo farvi a voi necessariamente per capire e per conoscervi un po' meglio. Possete i telefonini perché almeno una ne dovete alzare. Chi ha installato e utilizza Snapchat? Dai, bene. Chi ha installato e utilizza Instagram? Chi ha installato e utilizza Instagram e Instagram Stories? Chi decide di rimanere fino alla fine? No, questo non lo dovete dire prima, siete liberissimi di andare, era per capire. Grazie del momento, mani in alto. Allora, iniziamo subito, questa è la situazione vostra, generica, mia, alla domanda, o meglio, questa è la mia faccia quando mi chiedono, e quando dicono, io non ho capito come funziona Snapchat. Allora, facciamo rispondere, è vero, in prima fila, grande. Qualcuno non ha capito come funziona Snapchat? Sì, bugiardi. Allora, facciamo rispondere Francesco Guccini, è difficile spiegare, è difficile capire se non hai capito già. Ho scoperto che era di Francesco Guccini, in realtà è nella bio di Mafia e The Budgets. Mi sembrava brutto citare Mafia, allora ho messo l'autore vero. Ecco, il primo punto fondamentale, quando parliamo di nuove tecnologie inutili, è quello di cercare di capire. Oggi qui non vi spiegherò come funziona Snapchat. Non è un panel tecnico, perché io ci ho messo sei mesi per cercare di fare il primo snap. Quindi non sono la persona adatta. Non lo è probabilmente nessuno. In realtà, alla fine, ma poi quando scaricherete le slide, ho messo una serie di link. Ha, per esempio, una guida che trovate su SlideShare fatta da Giuliano Ambrosio, dove vi spiega passo per passo. Quindi, però, al di là di una difficoltà tecnica, è una modalità di approccio. Non bisogna cercare di capire come funziona Snapchat o come funziona Instagram Stories. Bisogna utilizzarli. Qualcuno di voi ha mai fatto un corso come profilo personale su come funziona Facebook? No. Vi siete iscritti, non ci avete capito niente anni fa, e poi piano piano avete iniziato a utilizzare. Ed è cambiato. È lo stesso discorso identico, vale per Twitter. Li abbiamo fatti per Twitter negli anni, questi discorsi. All'inizio per Instagram. Ma perché sono solo quadrate? Sono solo quadrate. Adesso è la volta di Snapchat. Quindi, non bisogna capire, bisogna semplicemente utilizzare. E questo ci serve anche per fare il passaggio successivo, rispetto a quando io utilizzo Snapchat per conto mio, e quando io chiedo o propongo a un cliente, o se sono io stesso il cliente, di dire, ma perché non inizi a fare le Stories? Allora, prima di capire come magari scegliere e perché utilizzare le Stories, dobbiamo, le Stories di Snapchat o di Instagram, dobbiamo fare un passo indietro. E dobbiamo cercare di inquadrare, filosoficamente, che cosa sono i contenuti a tempo, i contenuti istantanei, i contenuti che scompaiono e che muoiono. Per fare questo, non c'è persona meno illustre in Italia di Filippo Pretolani, che è qui. Vi voglio tranquillizzare, non salirà sul palco a spiegare quello che ha detto. Anche in questo caso, bisogna provare, cercare di cogliere. Io ho provato a riassumere in basso a destra. Sono tre piccoli video, se funziona l'audio. Io me la immagino la finta riunione in cui hanno inventato Snapchat. Qualcuno ha guardato i dati di Flickr, ha guardato i dati di Twitter, ha guardato le cronologie e ha capito una cosa. Ha detto, ma sai che c'è? Ma sai che le persone vivono il presente e soltanto molto marginalmente su queste piattaforme vanno a riguardare l'archivio delle cose. Chiaramente ho tagliato, perché lui è continuato per tre ore e mezzo. Il punto principale, la marginalità dell'archivio in tempi di istantaneità. Ma perché non provo usare Snapchat? Sì, ma poi dopo le cose si perdono, allora che senso ha? Beh, mi dite quanti di voi sono andati in una pagina di un'azienda o anche la vostra e sono andati giù, 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 giù alle foto che avete messo quattro anni fa? Potete uscire, no? Scherzi? Grazie. Grazie. Ok. E questo ci può stare. Nel senso che gli strumenti ci danno una possibilità e nel loro caso va benissimo. Questo in realtà va un po' contro quello che magari nella finta riunione della nascita di Snapchat che Filippo ci ha raccontato in esclusiva è avvenuto. Probabilmente in questa sala due persone hanno utilizzato la mano e probabilmente su scala è stato lo stesso ragionamento. Quindi questo è un primo punto importante. Il secondo punto importante è che non si fanno Snap o Instagram Stories alla guida. Attenzione. In questo caso ci sono due possibilità. o il dito di mafia accanto che sta registrando o delle app che permettono di registrare senza dover stare col dito alla mano. Volevo subito chiarirlo. Andiamo avanti. Secondo punto. Su Snapchat viviamo per scomparire. Snapchat, altrettutto, è riuscita a rivaltare in maniera drammatica una delle poche convinzioni che dalla storia dell'immagine in poi e dall'inizio dei primi taggerotipi aveva convinto tutti quanti. ovvero che la fotografia ci rubasse l'anima. La fotografia ci ruba l'anima perché cosa fa? Cristallizza in un'immagine statica quella che è la vita. Per la prima volta con Snapchat la fotografia non è un'immagine di morte ma ci restituisce completamente la vita nella sua vitalità, nella sua energia, nella sua pulsione. Noi in una fotografia non moriamo ma viviamo per scomparire. Questa è molto bella. Altro tassello sul perché utilizziamo delle storie che scompaiono. Perché le storie che scompaiono vivono solo nell'attimo in cui vengono viste. In realtà per 24 ore. Ma insomma siamo lì. Possiamo accettare, possiamo essere a favore, possiamo essere contro però stiamo andando in questa direzione. Ieri è una cosa che non ho letto quindi la riferisco così diciamo senza fonte e mi è stato detto che anche forse Facebook sta studiando di importare dei contenuti a tempo nella propria piattaforma. Ultimo tassello. E' più importante essere vivi che perfetti. Fino a qualche tempo fa non sarebbe stato possibile fare un contributo video per un incontro importante come BTO in questo modo. Ma grazie a Dio Snapchat ci ha abbastanza salvato la vita in questo senso. Cioè possiamo permetterci di fare le cose un po' come ci vengono perché è troppo più importante il fatto che siamo vivi e rispetto al fatto che un contributo come questo possa essere perfetto. Allora, tutto quello che stiamo dicendo qua, che sto dicendo qua ovviamente va tarato per questi canali, queste piattaforme, questi ambienti. Perché se qualcuno di voi ha sentito parlare me ieri e Paolo ma in generale anche altre volte io la penso esattamente in direzione opposta quando non parlo di Snapchat o di Instagram Stories. Cioè, dico spesso e volentieri, meno contenuti ma contenuti più studiati su Instagram, più perfetti. Ecco, quando parliamo di contenuti a tempo in questa fase ancora relativamente giovane di utilizzo di queste piattaforme probabilmente una strada da percorrere, una bella strada da percorrere è una strada fatta di errori, di imperfezioni, di video verticali che ormai sono stati sdoganati, di faccine, di tutto quello che ha a che fare con questo mondo. Meglio vivi, istantanei, veloci che essere perfetti. Se aspettate di fare lo snap o la storia perfetta non ci riuscirete, non ci riusciremo nessuno. Ok, vediamo di andare al succo un po' del panel. Queste sempre sono le facce più o meno che mi capita di vedere o di fare quando arrivano queste domande. Uso Snapchat o uso Instagram Stories? Beh, la prima risposta può venire da Google. Al momento ci sono già 4, milioni e passa di risultati nella chiave di ricerca Snapchat verso Instagram Stories cioè di tutto di più. Ci sono punti di vista più disparati, video, ho fatto una ricerca e sono stati giorni brutti. Il secondo è provare a chiedere ad Aranzulla che comunque c'è. Aranzulla c'è e ci aiuta. Come funziona Snapchat? Questo vale anche per prima. Se c'è una guida meglio di me ve la fa Aranzulla. L'altra risposta chi la sa? Snapchat o Instagram? Ti chiedi quasi quasi e mi agoli nel buio ma le risposte non le devi cercare fuori la risposta è dentro di te e però è sbagliata. Allora io, sì, vi voglio strappare un applauso no, un applauso no, vi voglio strappare un sorriso è chiaro in realtà poi vi voglio mandare un messaggio tra le varie opzioni questa di quello è la più sensata cioè probabilmente la risposta dipende da chi siete voi e probabilmente sbaglierete è normale è il processo non c'è altro modo per scegliere Snapchat o Instagram Stories io ho tirato fuori tre aree che sono l'identità, la presenza e l'attitudine cioè per cercare di capire se puntare più su uno o più sull'altro bisogna partire da chi siamo allora non come persone anche come persone ma come realtà se siamo un hotel qui stiamo parlando di turismo quindi questo discorso vale in generale però io lo calo in questo contesto se siamo un APT se siamo la regione toscana o se siamo il ministero del turismo o se siamo un piccolo ristorante di qualità di provincia dobbiamo capire qual è il punto di partenza e qual è la differenza banale fra l'essere per esempio un ristorante stellato il ristorante che ne so più importante d'Italia più famoso al mondo di bottura o un ristorante altrettanto buono ma più piccolo che avendo già una visibilità altrove possiamo permetterci di veicolare persone verso un determinato ambiente per esempio Snapchat dove magari facciamo più difficoltà visto che Snapchat è più un one to one ad avere una audience di persone che può seguirci è chiaro che viene più facile al ministero del turismo se domani mattina apre il canale Snapchat rispetto al mio ristorante che non ho l'altro discorso che è strettamente legato è di presenza se io uso Instagram da quattro anni e ho costruito pian piano la mia audience l'ho coltivata continuo a mettere contenuti e invece Snapchat è arrivato dopo e beh magari devo continuare su quella strada se proprio devo decidere però sono anche interessato comunque a capire come funziona allora magari il consiglio ma qui lo dico e qui lo nego è quello di non iniziare con il nome del vostro hotel magari iniziate come persone chiaramente è ovvio che la grande catena di hotel Marriott non ci può mettere il direttore magari lo può fare ora vedremo cosa ha fatto però magari iniziate voi ad associare la vostra persona al nome della vostra struttura e poi c'è un discorso di attitudine io mi sto sforzando a essere qui serio però vedete qualche slide scappa di queste bufette cioè se decidiamo di usare Snapchat te lo dirò anche dopo però no però io le maschere con le orecchie col cane che abbaia no perché comunque non è ma magari è giusto cioè se non sei anche una persona che si sa prendere in giro mettere in gioco se è una struttura particolarmente seria magari no allora identità presenza e attitudine ci portano verso una scelta se una scelta va fatta l'altro potrebbero essere un po' i dati però i dati non ce li abbiamo probabilmente non ce li abbiamo aggiornati questa è una slide vecchia e soprattutto in una fase di sperimentazione io direi di fregarcelo un po' non ci interessano i numeri di utenti attivi in Italia ci interessa un po' di più questa cosa questa cosa ci dice che in linea di massima qua stiamo parlando del 2015 le persone che usano Snapchat sono tra 16 e 24 anni quindi di fatto logica vuole che io vi dica se la vostra azienda struttura realtà è più affine ad avere quella tipologia di pubblico di persone con cui interagire probabilmente Snapchat è la strada ma attenzione ma perché ignorare noi ex giovani di 35 e 44 che con il 12% utilizziamo Snapchat probabilmente noi ex giovani un pochettino smanettoni siamo quelli che magari all'interno della nostra cerchia poi possiamo influire cioè se la vostra struttura non è una realtà che parla alle persone di 16 e 24 anni attenzione quindi prendere con le molle i dati divertirsi e provare sperimentare Business Insider due giorni dopo l'aggiornamento di Instagram a Instagram Stories ci dice attenzione hanno le stesse caratteristiche nessuno qui nega che Instagram Stories è la copia al momento di Snapchat però dice attenzione sono delle app differenti quindi hanno una storia diversa e probabilmente sono delle audience differenti è un articolo molto interessante da tenere in considerazione andiamo ancora in profondità allora è più importante essere presenti o esserci quando sia importanti anche qua mi devo contraddire perché normalmente la risposta per quanto mi riguarda quando parliamo di contenuti in rete di presenza è quella di dire facciamo di meno facciamolo meglio investiamo nella distribuzione e così via in realtà quando utilizziamo dei contenuti a tempo non è che dobbiamo utilizzarli proprio senza nessun minimo di cognizione ma c'è un discorso legato alle visualizzazioni chi utilizza Snapchat o Instagram Stories sa per esempio che se pubblica 4 contenuti o 10 o 10.000 in 5 minuti ci sarà proprio una curva dove il primo sarà visto da X persone e poi si va a scendere e allora la domanda è ma cosa ne pubblica fare 10 se tanto alla fine arrivo a 8 io per esempio se pubblico 10 contenuti che ne so 500 1000 poi arrivo 8 è un po' frustrante in realtà quelle 8 persone sono le persone che sono volute entrare in contatto in maniera forte con voi allora qui probabilmente il discorso della frequenza si ribalta meno importanza alle views più importanza alle relazioni vale per Snapchat vale per Instagram Stories confermate anche voi che c'è questa curva nelle visualizzazioni nessuno alza la mano stavolta ok c'è una mano alzata quindi anche questo è un dato allora io però oggi mi sono avvalso della facoltà di Filippo e poi però ho detto ok la sala la platea merita qualcosa di più oltre il mio punto di vista e quindi ho chiesto una serie di contributi a dei amici consulenti che hanno qualcosa da dire in questo caso in realtà non è che si sono poi scostati tanto rispetto a quello che è il mio pensiero però sentiamoci Giorgio Soffiato Marketing Arena ciao Rocco un consiglio per chi vuole essere su Instagram o Snapchat Instagram Stories o Snapchat allora si tratta di canali che hanno una che estremizzano i concetti di marketing digitale di narrazione marketing digitale puri e onesti questo è quello che io ti posso dire quindi essere in questi canali significa essere totalmente nudi perché la dimensione real time e la dimensione di diciamo narrazione multimediale quindi mi riferisco in particolare a video o mini video è totale quindi per chi vuole esserci è importante essere pronti se non siete pronti fate tranquillamente di meno nel senso che è meglio non esserci che avere un contenuto banale ora c'è la seconda parte e poi ti dirò una chicca che secondo me è questa è la mia quote il mio consiglio è quello di non inserire questi canali nel piano editoriale nel senso che questi canali queste declinazioni dei canali nel piano editoriale perché si tratta di attività talmente real time per cui tu inserirai a livello di piano master il fatto di averli e di metterne se ce la fai due a settimana però non devi obbligarti a farlo perché sono quelle attività per cui devono essere totalmente distribuite all'interno dell'hotel o della struttura ricettiva devono esserci alcune persone deputate a poterlo fare e culturalmente deve essere una cosa che ti rende rifarlo quando ti senti libero quando ti senti nella condizione nella possibilità di farlo quindi io andrei in questa direzione allora quello che mi interessa molto di questo intervento di Giorgio è proprio questo aspetto noi consulenti siamo lì a dirvi dovete fare il piano editoriale lo dovete rispettare e così via attenzione in questo caso sicuramente potete programmare delle attività ma dovete lasciare molto spazio alla possibilità di intervenire quando sentite la necessità senza stare lì a pensare se questo è un contenuto che può convertire oppure no perché non è questa la fase al momento e non è questo il modo probabilmente non è che ci sia un modo come sempre di utilizzare al meglio però si avverte la necessità della spontaneità Gianluca Diegoli ora poi vedrete che il testo si va sempre rimpicciolendo ci fa un ragionamento simile che parte dall'identità e dice appunto quel discorso che facevo prima cioè dipende da chi da chi siete cioè non ha senso per una microstruttura magari investire del tempo in questo parallelamente concordo ma parallelamente dico se però la microstruttura comunque è il titolare che lo utilizza perché no questi contenuti li ho voluti mettere per intero così poi potete anche rileggerli vedete vi dicevo che le slide si assottiglia anche Giuliano fa un ragionamento di questo tipo alla fine trovate un link interessante con ve lo dicevo prima con tutte queste slide anche Giuliano ci fa un discorso di questo tipo dando anche dei consigli che sono consigli anche abbastanza semplici giusti raccontare il dietro le quinte raccontare dei momenti che comunque magari non sono importanti ma ci danno un po' la sensazione e trasferiscono un po' il mood di quello che è la realtà Carlo Vischi pure dice questa cosa ne sento parlare come se si trattasse di una sfida di calcio dobbiamo andare oltre allora il vero sforzo è questo cercare di divertirsi e puntare poi sulla piattaforma che ci permette meglio di comunicare di essere visti non cercare di avere una posizione che parte per forza da un punto di vista ora questo è il punto delle case studies però io dico sempre attenzione non provate come il salto in quella maniera a casa perché qui troveremo delle cose che non hanno a che fare col turismo e poi anche che hanno a che fare col turismo ma non è detto e soprattutto ognuno di noi ha una realtà diversa però ci serve gli esempi ci servono per cercare di attivarci allora il primo esempio è un esempio che non si trova più in rete non lo so l'hanno cancellato io avevo scaricato il video ed è un utilizzo da parte di Netflix di Snapchat senza che venga citato o poi a un certo punto magari sì ma con un'azione senza che venga citato qual è il canale di Netflix cioè il canale di Netflix su Snapchat non c'è non è importante allora probabilmente potete utilizzare all'interno delle vostre realtà Snapchat senza averlo è in inglese ma si capisce è in inglese 3. Swap Faces 4. Share It quickly became the biggest trend of 2016. So, everywhere in France, we install posters featuring all your favorite Netflix original heroes, enabling you, for the first time, to truly become your favorite characters. All the posters were especially designed to make you instantly swap faces with original characters. In order to reach Snapchat users, we place posters in strategic locations, next to schools, shopping malls, and the biggest French media. The results? All over France, Snapchat users swapped again and again, making it so big, that Netflix use it during their biggest press event, the Slate event. In only a week, 12.000 new Kimi's appeared, 23.000 new Pablo's, 27.000 new Boo's, and who knows how many Frank Underwood's. This interactive outdoor campaign capitalized on the massive face swap trend and, for the first time, changed Snapchat usership. Cioè, probabilmente, cercare... Utilizzare Snapchat serve a farci capire che lo swap delle facce è una cosa fondamentale. Ora, l'ha già fatto Netflix, lo farà qualcuno, però provate ad avere un pannello con uno swap dentro una stanza di hotel, per esempio. oppure la cost, provate a pensare a qualcosa del genere. 2014, in questo caso è una caccia al tesoro che la cost fa. e anche H&M. What else could young people find in an H&M store other than the latest H&M Loves Music Collection? Maybe the last tickets for the legendary DJ shows that come out of nowhere excite thousands and disappear? Celebrating the 2014 H&M Loves Music Collection, H&M partnered with the world famous Boiler Room TV. News spread quickly. After all, Boiler Room was coming to Poland for the first time. But how could we highlight the partnership and let people know about H&M's engagement with the event? Getting on the list was a dream to every true music fan in Warsaw and Krakow. But soon, there were no tickets left. Enter H&M. Since Boiler Room is a unique formula of disappearing events held in secret locations, we decided to use Snapchat, a buzzing social platform built on disappearing messages. And that's how the idea of Poland's very first Snapchat urban chase was born. It made perfect sense. With no other means of obtaining a ticket, we hid 20 exclusive double tickets in selected H&M stores in Krakow and Warsaw. The only way to find them was to follow our brief Snapchat hints. We turned H&M stores into a playing field. Just like Boiler Room turns unexpected locations into crazy parties. And then, we let the game begin. We have to say something in Polish, because I can't. I will dance. Super. I love you. Thank you very much. I'm waiting for you. Well, the results are certainly positive. Qual will be the first place in Italy that will create a treasure in their own territory? We'll see. We'll talk about it next year. Obviously, if it's in H&M, it's easier to see it, but attention, this is easy to do because... perché la creatività ci può permettere di fare delle cose anche se non si raggiungono audience molto ampi. Poi su Snapchat, per esempio, l'esempio di H&M ovviamente era su Snapchat, ma su Instagram Stories è la stessa identica cosa, ed è ovvio che i contenuti che scompaiono si prestano bene a caccia al tesoro, a ricerche, a discovery. Poi esistono queste cose che sono i filtri sponsorizzati, costano, però alla fine la gente, nel senso in questo caso non è un millennial, almeno non sembra, o se li porta male. Intanto è sempre molto difficile trovare cose che fanno i brand su Snapchat perché poi scompaiono, si riescono a trovare su Instagram Stories quando loro decidono di raccontarli. In questo caso la catena di Votels ha fatto delle cornici, delle cartoline attraverso dei filtri, così le persone che erano e che volevano utilizzare, sono dei geofiltri, quindi sono dei filtri che ti trovi su Snapchat solo ed esclusivamente se ti trovi in quella zona, potevi utilizzare questi filtri per poter fare le foto dalla propria camera, che è un grande classico, dalla camera di Votels, soprattutto se hai alcune di queste viste, e facevi un contenuto brandizzato. Mariotte, lo dicevo prima, in realtà poi ha dato il proprio profilo a dei YouTubers che ha mandato in giro per il mondo e ha fatto raccontare il dietro le quinte, perché loro in quanto YouTubers chiaramente poi creavano dei contenuti su YouTube, ma il dietro le quinte è stato raccontato attraverso il canale Snapchat del Mariotte in contemporanea in varie città. SnapTrip di Ibis è una cosa simile. Allora, a questo punto proviamo, queste sono magari delle cose un po' più difficili, forse non per forza alla portata, ma sono delle cose che ci possono far riflettere. Proviamo a rispondere alla domanda che cosa faccio con dei contenuti che scompaiono. Ovviamente io devo andare in maniera ampia, perché qui siete in tanti, ed è difficile dare delle indicazioni precise. Ma è una partita, una partita da giocare. Allora, creatività, improvvisazione e racconto. Siccome c'è poco da fare, la creatività è quella che comanda quasi sempre, ma per creatività qui si intende qualcosa di completamente diverso, così come sono i filtri, c'è qualcosa, ora vi faccio vedere un esempio dopo, che possa fare la differenza, che possa rimanere impresso. Racconto, è evidente, cioè questi sono strumenti che esplodono la possibilità di far vedere cosa succede in una cucina, cosa succede durante le fasi di sistemazione di una camera, quello che decidiamo di fare. Però è fondamentale cercare di costruire delle micro storie, magari di 4 o 5 snap, che hanno un inizio e una fine, attraverso la scritta, per esempio. Cioè costruire dei micro racconti, che possono essere solo video, che possono essere solo audio, che possono essere solo immagini, testi e così via. E poi al centro l'improvvisazione. L'istante è quello, cioè non si può pensare di programmare alcune, è giusto programmarle, altre bisogna andare di getto. Quando parlo di creatività, per esempio, su Snapchat, non si può non citare una ragazza, una nostra amica, che faceva uno snap a settimana. Però era lo snap probabilmente dove tutti noi restavamo incollati. Lei si chiama Artemisi 4. Queste qua, lei, le fa con Snapchat. Cioè prende una sua foto, ah nel frattempo c'è anche il video, prende una sua foto, prende un emoticon, se lo mette attorno. Ora io non lo so cosa può fare una struttura nel settore del turismo del genere, però in questo caso creatività è questo, cioè inventarsi anche una cosa stupida, un contenuto che però visivamente è molto forte. E siamo alla fine. Le altre cose che vi voglio dire, qui ci sono tutta una serie di cose, stupidaggini, rallentatore, risposte, lenti. Quello che voglio dire è questo, decidiamo di usare Snapchat o Stories, Snapchat ci permette di avere le maschere. Bene, non possiamo non decidere di non utilizzarle. Magari ne utilizzeremo alcune che ci piacciono di più. C'è la modalità flashback, cioè quindi il video che tu fai viene portato indietro. Non possiamo decidere di non utilizzarlo, ma perché no? Perché questa è la grammatica di quella piattaforma. E se decidiamo di essere in quella piattaforma, dobbiamo parlare quel linguaggio. Per spiegarlo ancora in maniera più semplice, ma penso l'abbiate capito, è come se su uno status di Facebook voi leggete Gentile Cliente, siamo lieti di informarvi che oggi c'è un'offerta in corso, eccetera, eccetera. Non è quello il linguaggio, probabilmente se mando una comunicazione più formale sì. Allora, l'invito di fatto è quello di provare, sperimentare, non decidere, e dare il giusto peso a quello che è un'attività che si può fare su Snapchat o su Instagram Stories. Non vi cambierà il business, ma vi permette di avere, questa era una cosa che diceva anche Carlo, quando fra un anno o due anni probabilmente la visione è questa, i contenuti a tempo saranno la maggior parte rispetto ai contenuti fissi, voi sarete pronti e preparati. Grazie. Se ci sono delle domande bene, se no niente. Come promesso, nelle slide statistiche funzioni e tutta una serie di altre cose. Qualche domanda? No. Grazie, buon pranzo, buon BTO. Grazie. 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 Grazie.